Ma tu guarda cosa mi tocca vedere, è indegno, il comune cosa fa? Sono tutti quei drogati che vengono qui a fare baccano alle 10, tutte le sette. Esatto, io abito qui di fronte e vedo e sento purtroppo. A volte stanno lì fino alle 10 con urla e schiamassi. Una cosa vergognosa. Io dico una cosa, l'Italia era una nazione bella, non pulita al 100%, ma ci stava. Quando sono arrivati tutti questi multietnici è diventata la nazione più sporca del mondo. Questo è il mio parere, eh? Buongiornissimo, caffè? Biscotti buonissimi e velocissimi da fare, senza glutine e senza lattosio. E il comune? Hanno speso tutti quei soldi per i lampioni. Ma le telecamere, quando le mettono? Ma quali telecamere? Ci vuole un gruppo di vicinato che sorvegli la zona. È la cosa che deve fare il comune. Aiutatemi, vi prego, aiutatemi. Gigetto non è tornato a casa ieri sera. Ha un collarino rosso. Siamo in zona Via della Pace. Chiunque lo trovasse, mi contatti a questo numero. No, comunque è vergognoso. È vergognoso che uno deve pagare le tasse e poi si trova la bottiglia per terra, ma dai. Ma quali figli di multietnici? Questi qua sono figli dei nostri. Stanno in casa a giocare alla Playstation tutto il giorno e poi la sera vengono qui a fare del baccano. No, 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 è in druguet! No, 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 no. Adesso so io cosa faccio. Fermi tutti. Adesso taggo il comune nel post così vediamo se poi dicano niente. Tagga lo dici. In realtà potete fare qualcosa di più. Nello statuto del comune di Vignola ci sono tanti modi per dire la nostra, diversi strumenti di partecipazione. Proponiamo di poter svolgere una parola al cittadino. Piazza dei Contrari, proposte. Io ho una proposta, un bel corso di pasta sfoglia per mantenere la nostra tradizione. Ma io propongo una corsa podistica, così si sfogano anche un po'. Io proporrei invece un bel corso di uncinetto. A me rilassa tantissimo. Dunque facciamo le votazioni. Podismo. Uno. Perfetto. Uncinetto. Tre. Pasta sfoglia. Una nemità. Le tre proposte più votate durante la parola al cittadino vengono approfondite, discusse e votate nel primo consiglio comunale utile, invitando i cittadini a relazionare. Ma si fa fatica, sono stanco. Come stanco? A talta me è stanco. Vai poi a letto prima la sera, poi ad un call letter. Avanti veloci, forza. Avanti ragazzi, c'è da fare anche il testo. Tutto questo è stato possibile grazie alla parola al cittadino e alla sinergia tra cittadini e amministrazione. E si mangia anche bene. E di nuca che a via! E di nuca che a via! E di nuca che a via! Ecco la tua sprazione! E di nuca che a via! E di nuca che a via! E di nuca che a via! Inzit項!